Piazzole delle isole ecologiche trasformate spesso in discariche a cielo aperto o mafano entro l'estate furbetti potranno essere scoperti e multati. La Giunta Comunale ha infatti approvato il regolamento che disciplina la videosorveglianza sul territorio ad annunciarlo l'assessore all'ambiente ed ecologia urbana Samuele Mascarin. Passaggio importante perché attraverso questo regolamento che nasce dalla collaborazione della pulizia municipale e dell'assessorato all'ambiente sarà possibile installare nelle aree pubbliche impianti di videosorveglianza questo nell'ottica non solo di prevenire e contrastare il crimine ma anche di controllare il corretto smaltimento di rifiuti nel nostro territorio. In altre parole sarà possibile avere videosorveglianza per le isole ecologiche e in questo modo poter finalmente sanzionare coloro che abbandonano i rifiuti in queste aree. Le telecamere mobili saranno installate a rotazione nelle isole ecologiche e la spesa sarà a carico di ASAT S.P.A. La registrazione delle immagini invece che sarà conservata per una settimana al massimo sarà collegata con la centrale operativa della polizia municipale. È un atto quindi molto importante perché permetterà da un lato di punire i cittadini che si comportano in maniera incivile e dall'altro di dare un segnale alla stragrande maggioranza dei cittadini che invece correttamente in questi anni si sono impegnati per primi a fare in modo che la nostra città fosse una città pulita dove il decoro fosse garantito e la raccolta differenziata potesse avere buoni risultati.